Al Fio Mannino, oggi la CGL si riunisce ancora una volta per discutere riguardo l'ordinanza prefettizia che vieta gli assembramenti per quanto riguarda la zona industriale. Sì, noi stiamo facendo un momento di discussione con il gruppo dirigente della CGL di Siracusa perché noi riteniamo che l'ordinanza in sé sia stato un fatto grave, che lede i diritti costituzionali dei lavoratori e delle lavoratrici, ma soprattutto quello che sta emergente è ancora più preoccupante, che di fronte a indicazioni che provengono da stati esteri le nostre istituzioni si piegono e noi tutto questo non possiamo accettarlo. Noi stiamo già con i nostri uffici legali predisponendo il ricorso al CGA. Detto questo, al di là di questa scelta che stiamo facendo come CGL, io credo che continuerà la nostra battaglia, la nostra iniziativa, la nostra avvertenza per affermare un diritto e un principio che poi non è altro quello di rivendicare diritti per i lavoratori e le lavoratrici. Ecco, diciamo che proprio nella zona industriale di Siracusa non si vive una situazione lavorativa favorevole. Difatti io credo che le istituzioni democratiche si debbano interrogare di questo, della mancanza del lavoro, del lavoro che è diventato più precario, dei diritti dei lavoratori che vengono negati, piuttosto che dire che non si possa fare l'assembramento di fronte a una fabbrica. La storia di questo Paese, fortunatamente, è stata una storia di democrazia, di partecipazione e di lotte e spesso anche le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici hanno portato a conquiste importanti. Pensare invece di limitare, come dire, la iniziativa sindacale e il giusto protagonismo dei lavoratori non credo che sia il viatico giusto per affermare diritti, legalità, ma soprattutto provare a costruire un Paese migliore. Ecco, c'è qualcuno dentro che ha ribadito che alla fine il Prefetto ha semplicemente eseguito ciò che è legge, ordinanza. Come rispondete voi? Il Prefetto si deve attenere alle leggi di questo nostro Paese, non deve rispondere alle sue esercitazioni che gli vengono da un capo di gabinetto piuttosto che da qualche ambasciatore di un altro Paese. Ha l'obbligo di osservare le leggi di questo nostro Paese e si deve attenere a questo. Tra l'altro c'è ancora una discresia perché nell'ordinanza si fa riferimento a problemi di ordine pubblico, vorremmo capire quali questi sono. Non mi pare che ci siano stati atti di violenza tali da poter giustificare questo elemento. A questo noi aggiungiamo invece della discresia perché da un lato si parla di questione che attiene all'ordine pubblico, dall'altro invece poi nella documentazione correlata al ricorso la Prefettura inserisce invece sollecitazioni provenienti dallo Stato estero e da istituzioni italiane. Grazie.